I SUOI FENOMENI Lucia Sordi, nata nel 1871, medium ad effetti fisici. I suoi fenomeni consistevano in compenetrazioni, fenomeni luminosi, materializzazioni e imponenti manifestazioni di psicocinesi. Tra il 1911 e il 12, la Sordi fu studiata a Milano e a Roma da un gruppo di scienziati. Il professor Skrank Notzing non scoprì alcun trucco. Durante una seduta, uno dei presenti si sentì toccare da un braccio materializzato e accese una forte lampada. Si vide sospesa nell'aria una sagoma di camicia trasparente, che subito fu riassorbita dal corpo della medium, che cadde a terra gridando, contorcendosi ed espettorando sangue. Perché? Commento. Perché agli inizi del progetto spiritico vigevano i fenomeni fisici, realizzati attraverso formazioni ectoplasmatiche. E molti medium essudavano l'ectoplasma. Grazie. 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 Grazie a tutti